Voi credete nell'Elettrico B? Il gruppo Riva? Sì, e infatti oggi al voto di Dusseldorf lancia il nuovo Riva L-Iseo. Due pacchi batterie da 75 kW l'uno per un'autonomia 25 nodi di un'ora, ma la velocità massima è di 40 nodi. Utilizzabile quindi come grande tender di lusso perché è agile, veloce e bello. Bello come solo Riva può essere. Bello come solo Riva L-Iseo.